Officine piene di auto ferme in attesa della revisione delle bombole a metano e automobilisti a piedi. E c'è chi, quelle bombole da revisionare per legge ogni quattro anni, le aspetta anche da più di una settimana e che per questo non può partire per le vacanze o non può lavorare. Succede da circa un mese e con le feglie di agosto tempi e disagi sono destinati ad aumentare. Il centro di revisione di Iesi a cui si affidano gli autoriparatori marchigiani è infatti intasato di richieste e non riesce a smaltirle. Arrivano da tutta la regione ma anche da fuori, visto che gli altri due centri presenti in Italia non riescono a tenere il passo. Codiratena è un centro privato, lavora un giorno solamente alla settimana. Il centro di Bologna è sottorganico quindi non riesce a fare la solita fornitura. Il centro di Iesi si ritrova sovraccarico di lavoro, non riesce purtroppo, malgrado la buona volontà, a poter gestire la necessità e tutta l'utenza che gli arriva. E a rimetterci sono proprio gli automobilisti e gli autoriparatori della regione, qui dove il metano corre più che altrove. Nelle Marche infatti il 10% dei veicoli in circolazione viaggia a metano contro il 2% della media nazionale. Macerata, Ancona e Fermo, le province italiane con la maggior quota di veicoli a metano. Di qui la richiesta al governo regionale di fare il pressing a livello nazionale. Bisognerebbe fare un intervento oltre a livello regionale e a livello nazionale per far sì di poter aumentare la forza lavoro o le strutture che operano nel settore e cercare di fare il modo di riintegrare l'organico dei vari centri di divisione dove è carente o anche se fosse necessario, perché no, vedere magari se sia il caso di aprire un altro centro, magari verso il sud Italia dove sono costretti a spostarsi e venire a reperire le bombole qua da noi. Grazie a tutti.